Contratto di sviluppo Conte rivede la graduatoria, il premier si accinge a riformulare la classifica dei lavori finanziati, esclusa la Ecomont che ha un debito fiscale di 500 mila euro con il comune di San Massimo, spuntano conflitti di interesse. Vertenze e scioperi, la rabbia dei lavoratori, nulla di fatto al vertice gamma la regione, assente Amadori, lavoratori pronti a iniziative clamorose, tensioni alla chimica fisse di Termoli dove lunedì sarà sciopero. Carabinieri arrestano autori rapina in farmacia Mirabello, due campobassani sono finiti in manette grazie al lavoro di indagine dei militari, controlli nel centro storico e nei locali della Movita, sinergie tra forze dell'ordine nel presidio del territorio. Sanità pubblica Forum invita a essere compatti, lunedì pomeriggio a Campobasso l'incontro organizzato per difendere i presidi sanitari pubblici, Lucio Pastore invita alla compattezza e alla partecipazione. Campobasso lunedì inizia la preparazione, i rosso-blu si ritrovano per cominciare gli allenamenti agli ordini di Mister Cudini, l'attaccante Alessandro non fa più parte del progetto. 14.02, buongiorno, benvenuti alla seconda edizione del telegiornale. Dunque il governo Conte si accinge a riformulare la graduatoria dei progetti finanziati con il contratto istituzionale di sviluppo, esclusa la Ecomont che ha un debito fiscale di 500 mila euro con il comune di San Massimo e i progetti non cantierabili. Intanto spuntano ipotetici conflitti di interesse e operazioni politiche mimetizzate e finanziate con il CES. Ce ne parla in questo servizio Giovanni Minicozzi. Si accentuano le proteste dei sindaci esclusi dai finanziamenti previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e Palazzo Ghigi, che a dire il vero non ha ancora ufficializzato nessuna decisione in merito, si accinge a rivedere la graduatoria ufficiosa circolata nei giorni scorsi. L'amministratore delegato di Infitalia, Domenico Arcuri, l'amico Mimmo, come ama chiamarlo il governatore Donato Toma, e Gerardo Capozza, martedì prossimo torneranno nel Molise per placare gli animi degli esclusi e per rivedere i progetti, molti dei quali non sono finanziabili poiché si tratta solo di idee e quindi manca la immediata esecutività. Siamo rimasti estremamente perplessi dalla metodologia utilizzata, devo dire che l'assenza di un criterio che fosse condivisibile per tutti, che fosse misurabile, ovviamente ci ha lasciato completamente spiazzati. Parte del fortore è stato tagliato, non si sanno quali sono i criteri, per quale motivo è che il sistema hanno adottato, insomma c'è mancanza di chiarezza, bisogna far chiarezza, bisogna farci capire perché e anche capire qual è poi la graduatoria, perché ci hanno detto quali sono i finanziati, ma io non so nemmeno se il mio progetto sta all'ultimo posto e il primo da non essere finanziato, cosa è successo. Nel Mirino anche la società privata Ecomonte di Campitello Matese, in debito con il comune di San Massimo per 500 mila euro, è titolare di fabbricati e terreni acquistati da Liria agli inizi degli anni 90, che potrebbe essere tagliata fuori dal finanziamento richiesto pari a 10 milioni di euro. Peraltro in rete e tra i sindaci esclusi è scoppiata la polemica, poiché il presidente commercialista Donato Toma, secondo quanto riferito dal giornale telematico riservato .net, per circa 15 anni è stato componente del collegio sindacale e consulente della Ecomonte S.P.A., ovvero Toma ha esercitato la sua professione fino a quando c'è stata la trasformazione da società per azioni a S.R.L., per la quale il collegio sindacale è facoltativo. Per fugare ogni dubbio su eventuali conflitti di interessi, un paio di domande sono d'obbligo. Chi ha sponsorizzato la Ecomonte con Invitalia e con Domenico Arcuri? A quale studio di consulenza si è affidata la Ecomonte S.R.L. dopo la trasformazione societaria? Siamo certi e ci auguriamo che lo studio Toma non sia più consulente della società, oggetto di feroci critiche anche il progetto per la valorizzazione dei tratturi finanziato con 120 milioni di euro, mentre la viabilità principale e quella secondaria del Molise sono ridotte in condizioni pietose. Secondo indiscrezioni trapelate da Roma, l'assegnazione dei 120 milioni di euro serve per mimetizzare un'operazione politica a vantaggio della Lega, ovvero sarebbe il risarcimento concesso a diversi amministratori comunali e regionali in procinto di arruolarsi con Matteo Salvini. Ma al di là di tutte le indiscrezioni, resta l'amara considerazione che il Molise, con la responsabilità evidente di tutti, regione, province, comuni e prefetture, si accinge a sperperare 220 milioni di euro e con essi l'ennesima occasione per invertire la rotta e programmare uno sviluppo concreto del territorio. Parliamo della vertenza GAM e dell'ennesimo nulla di fatto dall'incontro che si è svolto nella sede della Giunta tra il Governatore Toma e i sindacati, assenti i rappresentanti del gruppo Amadori. Tra i lavoratori c'è rabbia e disperazione e annunciano iniziative clamorose di protesta con presidi davanti alla Prefettura e alla Regione. Sentiamo in proposito Anna Maria Di Matteo. Rabbia, delusione e disperazione sono i sentimenti che animano i lavoratori della GAM e con essi i sindacati al termine dell'incontro. L'ennesimo che si è svolto nella sede della Giunta regionale con il Governatore Toma era attesa la presenza dei rappresentanti del gruppo Amadori che all'ultimo momento hanno dato forfè a causa di impegni improrogabili annunciando tuttavia la presenza al vertice ministeriale. L'ennesimo nulla di fatto che è il sapore della beffa. Siamo usciti con le ossa rotte, io l'ho detto anche al Presidente. Purtroppo non ci sono soluzioni, non ci ha dato certezza, quindi ecco perché ci sta la preoccupazione di tutti i lavoratori. Io penso che Amadori al mese si dovrà comunque presentare e lei dovrà dirci e spiegarci, visto che ha preso anche i soldi dei molisani, del PSR, ci dovrà dare delle risposte. È incombente la data della fine dell'ammortizzatore sociale e quindi della mancanza totale di reddito per questi lavoratori e quindi è in ballo il futuro di questi lavoratori, ma accanto a loro il futuro del Molise, visto che la posta in gioco è il rischio di perdere un contratto di sviluppo che cuba più di 40 milioni di euro, una cosa che per il Molise è assolutamente vitale. Quindi noi dobbiamo a questo punto tenere alto il livello dell'attenzione. Ma i lavoratori non ci stanno, non si arrendono e sono disposti ad andare avanti fino in fondo, con manifestazioni di protesta eclatanti e presidi davanti alle sedi istituzionali del Molise. Stiamo pensando che comunque su questo tema non può calare il livello di attenzione, questo il presidio o la presenza dei lavoratori significa dare un sostegno, un supporto a questa vertenza perché tutti si assumano le proprie responsabilità, i livelli istituzionali e anche la parte del soggetto datoriale che pensavamo potesse dare risposte, ma invece queste risposte non ci sono. Stiamo ipotizzando di chiedere il permesso per fare un presidio sotto la Prefettura perché la Prefettura è il raccordo con il Governo, perché già sa qual è il livello diciamo di disagio sociale di questi lavoratori, perché è stata interessata anche in questi giorni e sarà da lì il luogo dove noi possiamo in qualche maniera preparare anche azioni successive come una manifestazione sotto al Ministero dello Sviluppo Economico quando verrà convocato l'incontro con Amadori. Intanto tensioni all'azienda chimica FIS di Termoli dove i sindacati hanno proclamato uno sciopero per lunedì. In Fiat invece è stata annunciata altra cassa integrazione ma si chiede di mantenere gli impegni per gli investimenti previsti. Fabrizio Occhionero. Economia e aziende del nucleo industriale di Termoli, problemi e auspici per un futuro fatto di investimenti e nuove opportunità con una visione chiara del territorio e delle sue prospettive. Altri giorni di cassa integrazione, a fine agosto lo stabilimento Fiat Chrysler fanno riflettere sulla salute del comparto. Il settore, spiega in una nota la Wilm, attraversa uno dei momenti più delicati della sua storia poiché si trova davanti a un bivio tecnologico destinato a incidere sulla sua stessa natura e al contempo subisce gli effetti negativi della demonizzazione dei motori diesel. Questi fattori, aggiunge il sindacato metalmeccanico, incidono fortemente sulle scelte dei consumatori che in una fase di disorientamento preferiscono rinviare l'acquisto di una nuova auto. Il 2019, osserva ancora la Wilm, attesta le nostre previsioni, confermandosi come un anno transitorio e complicato, caratterizzato dall'uso di altra cassa integrazione ordinaria, ma, conclude la nota, siamo fiduciosi che l'azienda manterrà gli impegni presi per lo stabilimento di termoli. Intanto, tensioni alla FIS, dove i sindacati hanno proclamato otto ore di sciopero per lunedì 22 luglio, al centro della protesta l'erogazione del premio per i lavoratori. Dopo aver dato tanto, hanno spiegato i rappresentanti di categoria dell'azienda chimica, i lavoratori si sono stancati e si sentono traditi da un rapporto fiduciario che, non ultimo, avevano ancora elargito. La cronaca adesso con l'arresto da parte dei carabinieri di Campobasso, degli autori della rapina messa a segno a giugno ai danni di una farmacia di Mirabello. Si tratta di due persone residenti nel capoluogo, già note alle forze dell'ordine. Il bottino del colpo, circa 600 euro, sarebbe servito per l'acquisto di droga. In mattinata la conferenza stampa dell'operazione nella sede del comando provinciale. Per noi c'era Anna Maria Di Matteo. La rapina all'11 giugno ai danni di una farmacia di Mirabello, bottino circa 600 euro. A distanza di poco più di un mese, carabinieri nel nucleo operativo e radiomobile di Campobasso, su disposizione del procuratore d'Angelo e del sostituto Schioppi, hanno arrestato gli autori del colpo. Si tratta di un 38enne di Campobasso e di un termolese di 26 anni, entrambi residenti nel capoluogo ed entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due si trovano attualmente agli arresti domiciliari. In mattinata la conferenza stampa nel comando provinciale dei carabinieri di Campobasso. I soldi rapinati alla farmacia servivano per purtroppo sempre la solita piaga che è quella degli stupefacenti. In particolare per reperire i stupefacenti non solo per assumerli personalmente ma anche per spacciarli. Quindi questa, seppur sono due arresti per rapina, comunque si inserisce sempre nella lotta alle sostanze stupefacenti. Per incastrare i rapinatori abbiamo utilizzato tecniche tradizionali e tecniche moderne. Quindi le telecamere, la tecnologia va benissimo, però noi abbiamo anche dovuto acquisire altri elementi perché una serie di indizi devono esserci per poter poi arrivare a colpevoli che sono quelle tradizionali, sono le testimonianze, i piedinamenti, le osservazioni. Insomma grazie a tutta una serie di attività siamo riusciti a fare un collage e a trovare tutti gli elementi, gravi indizi di realtà nei confronti di questi due soggetti che poi si sono rilevati essere tali anche per altre cose, i vestiti, abbiamo trovato anche i vestiti, insomma poi abbiamo trovato tutto. Quindi comunque sia le telecamere sono state sicuramente un fattore molto importante per acclarare quello che stavamo scoprendo. Intanto continuano senza soste i controlli di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità sul territorio, in particolare a Campobasso, sui luoghi della Movida. Ieri sera abbiamo fatto un servizio al centro di Campobasso di controllo, soprattutto serale e notturno, di controllo nel centro di Campobasso dove insistono la maggior parte dei locali, nel centro storico dove magari è più difficile andare o dove comunque si concentrano più persone, soprattutto il venerdì, il sabato e la domenica. Sono servizi che abbiamo fatto in particolare ieri sera anche in collaborazione della Guardia di Finanza ma che comunque noi come Arma dei Carabinieri faremo per tutta l'estate, in modo tale da consentire a chi si vuole divertire di divertirsi, ai locali di fare il loro lavoro ma nel rispetto delle regole, nel rispetto delle persone e nel rispetto anche del divertimento di chi vuole passare una serata anche bella, anche al centro di Campobasso, divertendosi senza però essere sottoposta ad atteggiamenti o a comportamenti che vanno oltre la legalità o anche oltre la decenza, la comune decenza. Ed ascoltato il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Intanto forze dell'ordine impegnate nel Basso Molise in diversi controlli, elevate sanzioni per contrastare il commercio abusivo. Sentiamo in proposito Tonino Danese. Come annunciato i controlli delle forze dell'ordine nel periodo estivo sono ancora più capillari, in particolare sulla costa dove c'è il maggior afflusso di persone, turisti e molisani di ritorno nei luoghi d'origine. Attenzione altissima per quanto riguarda i furti di auto lungo i centri della fascia costiera ne sono stati denunciati diversi. Guardia alta anche per quanto riguarda i furti negli appartamenti e ovviamente continuano i controlli antidroga. A Termoli Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia ha effettuato i servizi per contrastare la contraffazione e l'abusivismo commerciale. Nella città adriatica gli agenti del locale commissariato insieme a quelli della stradale, della ferroviaria e in sinergia con Carabinieri e Guardia di Finanza oltre alla Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto hanno operato con puntualità così come disposto in ambito nazionale dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Numerose le persone identificate, tra cui vari stranieri ed elevate anche alcune sanzioni amministrative. Gli operatori della Polizia Municipale di Termoli hanno sequestrato circa un centinaio di gonfiabili da mare, giochi vari da spiaggia e hanno proceduto nei confronti di persone che commerciavano senza licenza o autorizzazione. A Campomarino, nel corso dei controlli, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale hanno sequestrato oltre 1.400 prodotti tra capi di abbigliamento e accessori, moda ed elevato sanzioni amministrative per 5.000 euro sempre per commercio senza licenza o autorizzazione in area pubblica. A Isernia i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato una commerciante amministratrice di un bar pub per lei un'ammenda di circa 8.000 euro per aver omesso di effettuare la valutazione del rischio e non aver elaborato il DVR. Siamo alla politica. La seduta monotematica del Consiglio regionale del Molise sulla sanità precedentemente fissata al 24 luglio è stata rinviata al 30 luglio. Va stabilito il Presidente dell'Assemblea, Salvatore Micone, a causa del concomitante impegno del Commissario ad Acta, Angelo Giustini e del Subcommissario alla Sanità, Ida Grossi, al Tavolo ad Empimenti e Comitato Lea dei Ministeri della Salute e dell'Economia per la verifica del piano di rientro dal disavanzo sanitario. I vertici della struttura commissariale erano stati invitati alla riunione del Consiglio sul nuovo piano operativo sanitario. Ed è in programma lunedì pomeriggio a Campobasso l'incontro organizzato dal Forum per la Sanità Pubblica di Qualità. A tal proposito il Comitato di Sernia Beni Comuni invita il Sindaco d'Apollonio e i cittadini a partecipare affinché si prenda una posizione compatta in difesa dell'ospedale veneziale. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Ci sarà anche i Sernia Beni Comuni all'Assemblea organizzata a Campobasso dal Forum in Difesa della Sanità Pubblica di Qualità. Ma a quell'incontro i rappresentanti del Comitato non vogliono andarci da soli. Per Lucio Pastore è importante che ci siano anche i cittadini affinché prendano coscienza dello Stato in cui versa la sanità molisana. Questa è un'assemblea fatta dal Forum insieme ad altri comitati perché la struttura commissariale non vuole ricevere il Forum. Abbiamo fatto una richiesta specifica. Quando forse facciamo domande un po' scomode essenzialmente legate all'origine e al perdurare del debito in Molise dopo 10-12 anni di commissariamento. Speriamo che vengano in molti perché vogliamo che la gente cominci a prendere coscienza di questo precipitare veloce della situazione sanitaria. Siamo all'ultimo stadio in pratica prima della dissoluzione del sistema. Ma un invito particolare è stato rivolto soprattutto al sindaco di Sernia Giacomo D'Apollonio e all'amministrazione comunale anche alla luce delle posizioni assunte di recente in difesa del veneziale. Noi vorremmo che questa posizione possa avere una esplicazione anche in questa assemblea. Ci venga a dire lui che idea ha perché il problema è essenzialmente un problema politico. La sanità si sta distruggendo per volontà politica per privatizzare il sistema. Attualmente la situazione al veneziale non appare delle migliori. Non si avverte alcun segnale che in qualche modo possa contrastare quella sensazione di lento e inesorabile declino che si avverte nell'ospedale di Sernia. È un ospedale in dissoluzione. Si avverte che lentamente il sistema si sta spegnendo. Del resto se il 90% dei medici molisani ha più di 50 anni significa che è una popolazione quella dei dirigenti medici che si sta estinguendo. Non vengono medici giovani perché essendo una struttura in dissoluzione non è attrattiva. Protocollo d'intesa tra due centri Sprar e l'amministrazione comunale di Campobasso per la tutela delle aree verdi. che vede coinvolti gli assessorati all'ambiente e alle politiche sociali rappresentati dagli assessori Cretella e Praetano a rappresentare i centri Sprar Salvatore Dall'Oglio. Il progetto partirà nella prossima settimana ha spiegato Cretella e si impiegheranno cinque degli ospiti dei centri Sprar interessati in un corso di formazione sul giardinaggio svolto da personale specializzato che permetterà loro di acquisire una professionalità e consentirà di utilizzare la loro opera per la manutenzione delle aree verdi cittadine più bisognose in primo luogo la Villa De Capua. Il progetto in questione è pensato non solo per includere ma anche e soprattutto per formare ha specificato ancora l'assessore Praetano perché abbiamo intenzione di accompagnare i ragazzi che parteciperanno a questo progetto in un graduale percorso di professionalizzazione. La ciclovia del Sangro è un progetto all'avanguardia che attraversa i territori della provincia dell'Aquila di Isernia e di Chieti immergendosi nei passaggi mozzafiato che caratterizzano Abruzzo e Molise. Così il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso la presentazione della ciclovia del Sangro obiettivo del protocollo è quello di creare una sinergia attorno al progetto per promuoverne il finanziamento e la realizzazione favorendo iniziative infrastrutturali ed economiche che stimolino nuova occupazione e valorizzino il patrimonio ambientale e culturale del territorio interessato. È un progetto innovativo all'hotel-ristorante Il Poggio di Montenero di Bisaccia dove è stata inaugurata una palina per la ricarica delle auto elettriche. L'iniziativa, condivisa da Armando Cipriani, si inserisce in un piano nazionale che punta a impegnare al meglio il tempo necessario per fare il pieno di energia nelle nuove vetture. Ce ne parla Fabrizio Occhionero. Un servizio che si apre al territorio e si inserisce in una vera e propria rete dedicata al settore delle auto elettriche, un comparto in crescita, quello della mobilità di questo tipo, in cui la ricerca e gli investimenti sviluppano progressi e innovazioni all'ordine del giorno. Tra questi spicca la necessità di promuovere punti di ricarica in modo capillare e di impegnare al meglio il tempo necessario in un contesto di promozione e crescita del territorio. Armando Cipriani, responsabile dell'hotel-ristorante Il Poggio di Montenero di Bisaccia, ha voluto scommettere su questa iniziativa, accogliendo il progetto nazionale della Repower, denominato R101. Il progetto R101 parte dall'idea di risolvere i problemi di chi ha un'auto elettrica, quindi con i tempi di ricarica che le auto hanno in necessità abbiamo pensato di costituire in Italia un circuito che al momento prevede l'adesione di 300 strutture ricettive, vogliamo arrivare a 1000, dove l'utente attraverso Google Map, attraverso App, può individuare il luogo dove soggiornare, dove pranzare e dove poter tranquillamente ricaricare la propria auto elettrica. La struttura Il Poggio ha voluto installare un nostro strumento di ricarica per la mobilità elettrica per cominciare a offrire dei servizi. È un punto di partenza per sviluppare la mobilità elettrica anche nel Molise, anche nell'entroterra. La palina per la ricarica delle auto elettriche è stata inaugurata nell'area parcheggio della struttura di Contrada San Biase. Qual è il trend delle auto elettriche e quali possono essere i vantaggi di questo tipo di acquisto? Il trend è sicuramente positivo, dobbiamo dirlo. I vantaggi sono diversi dall'ecoincentivo statale, si arriva fino a 10.000 euro tra sconto e ecoincentivo, e poi ricordiamo inquinamento zero, emissioni zero, e oggi con una ricarica di circa 2 euro si riescono a percorrere 350 chilometri. E' semplice ricaricare? Sicuramente è semplice, lo possono fare tutti, anche come tempi di ricarica non sono, diciamo, elevati i tempi. Entusiasta è il titolare dell'attività che, rinnovando il suo impegno in un contesto di accoglienza e ricettività presente in una zona piena di risorse culturali e paesaggistiche, ha ringraziato tutti coloro che hanno condiviso il progetto innovativo. Abbiamo voluto investire sulla palina per ricaricare le auto elettriche perché crediamo fortemente che sia il futuro della mobilità su gomma e soprattutto anche per dare un fiore all'occhiello a questa splendida struttura di Montenero e quindi aumentare quelli che sono i servizi e le capacità della struttura. Questa è una zona strategica? Certo, una zona strategica perché se lei pensa che siamo a soli 4 km d'autostrada e quindi facilmente raggiungibili e che sull'autostrada non ci sono paline per la ricarica delle auto è facilmente immaginabile che qualcuno dovrà venire. Un'intera giornata dedicata alla Zampogna a San Polo Matese. Domani dalle 9 fino a sera a ventesima rassegna Zampognari d'Italia con partecipanti da diverse regioni esibizioni sia libere che sul palco e l'originale processione in cui il patrono San Nicola di Bari viene accompagnato dal suono di Zampogne e ciaramelle. Nel pomeriggio esibizione del gruppo La Taccarata di Fragneto Monforte. In serata esibizione degli Zampognari del Matese con Maria Emanuele. A seguire musica popolare del Cilento con i Chiepò. E' tutto pronto per la quindicesima edizione del Riccia Folk Festival che esiderà appunto a Riccia dal 7 all'11 agosto. La manifestazione è presentata oggi ufficialmente alle 17 alle piscine del villaggio turistico Ciocca. Un programma estremamente ricco di eventi con la direzione artistica affidata anche per l'edizione 2019 ad Alberto Di Lecce. L'evento è organizzato dall'associazione Gruppo Folk Moffa. Cinque giorni con spettacoli e approfondimenti culturali oltre alla tradizionale parte gastronomica con la riproposta di diverse pietanze tipiche e riccesi della tavola di San Giuseppe. Tanti gli eventi in particolare il concerto di Peppe Barra che si terrà nel centro storico mercoledì 7 agosto alle 21.30 con ingresso a pagamento nel costo del biglietto di 15 euro. E parliamo adesso di jazz in campo jazz in galdo serata ieri a Campo di Pietra dedicata alla musica napoletana con i Neaco. Sentiamo in proposito Tonino Danese. La musica napoletana quella classica e nota in tutto il mondo riletta in chiave blues, reggae e jazz. Contaminazioni creative e affascinanti viaggi che aprono a mondi nuovi le note della Neapolitan Contamination hanno ammaliato il pubblico di jazz in campo jazz in galdo. Il supergruppo è stato in piazza Rimembranza Campo di Pietra per proporre i brani più celebri della canzone napoletana in modo nuovo e particolare. un viaggio tra stili aree geografiche mescolando i ritmi del tango la rumba il jazz appunto e il blues una sorta di introspezione musicale un viaggio nell'anima dei generi che si incontrano dialogano la canzone si trasforma rispettando però le sue origini la musica dei Neaco sempre la ricerca di innovazione e sperimentazione all'attivo importanti collaborazioni e progetti. Partenope e Napoli rimane comunque una fonte di ispirazione infinita proprio stanotte mi sono ricimentato semplicemente nella storia di Partenope della della nascita di questa città e praticamente si arriva a 5.000 anni fa quindi devo dire che abbiamo parecchio materiale da rielaborare in più tutti noi girami il mondo e quindi quello che possiamo avere occasione di apportare da Cuba al Nord America al Brasile all'Africa eccetera eccetera ovviamente ognuno ci mette tutta la propria esperienza. Dopo un lungo percorso i Neaco oggi sono strutturati in una formazione di altissimo spessore oltre a Giovanni imparato direzione artistica e percussioni e Luigi Carbone regia voce narrante e tastiere l'esecuzione affidata al basso del maestro Aldo Perris che cura anche le orchestrazioni alla chitarra dello svedese Mats Hedberg a quella del napoletano Antonio Carluccio ai fiati di Davide Grottelli al violino di Lavinia Mancusi alla voce di Giovanni imparato si aggiungono quelle di Antonio Carluccio cantautore e cantante attore di Lavinia Mancusi rappresentante di punta della nuova musica popolare folk ci stanno le canzoni le canzoni chiave della storia della canzone napoletana contaminate appunto con canzoni del mondo ma collegate da questo copione da questa storia che è la storia di un viaggio un viaggio che che porta questo personaggio in giro per il mondo e quindi a cercare la contaminazione e spunti dal mondo ma rimanendo sempre napoletano e mettendo la cultura napoletana a disposizione del mondo ecco intanto Mafalda Minnozzi e Paul Ricci saranno i protagonisti del primo concerto di questa sera a Campodipietra nell'ultima serata di jazz in campo jazz in galdo bossa nova e jazz di livello internazionale nella seconda parte della serata invece spazio a Filippo Graziani figlio dell'indimenticato Ivan che del padre ripropone i successi e riprende la originale vena artistica dopo tante esperienze fatte anche all'estero prima di tornare in Italia e celebrare il genio paterno con il progetto viaggi e intemperie il doppio concerto con momenti di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio si darà al centro di Campodipietra e il nuovo appuntamento del ciclo di incontri fare cultura nelle aree interne di scena a Bagnoli del Trigno oggi a partire dalle 17.30 al santuario Madonna di Fatima si parlerà del patrimonio archeologico molisano con Gianfranco De Beneditis dell'Università del Molise e Adriano Larigina presidente dell'Istituto Nazionale di archeologia un momento celebrativo ma anche di consapevolezza e approfondimento oggi a Sepino dalle 15.30 la tavola rotonda su Vincenzo Tiberio precursore della scoperta della penicillina e ufficiale medico della Marina Militare nato a Sepino 150 anni fa saranno proposte tra le relazioni anche le testimonianze dei nipoti dello scienziato l'evento prosegue con l'inaugurazione di una targa commemorativa e l'esibizione della banda musicale Città di Rutigliano bene con questa notizia ci fermiamo è tutto anche per la seconda edizione del TG adesso le previsioni del tempo poi il telegiornale sportivo grazie per l'attenzione buon fine settimana arrivederci grazie a tutti